Buongiorno a tutti, mi chiamo Susanna De Bastiani e sono di Selico. Sono molto felice di partecipare a questa iniziativa di Restartia Toromiti. Nelle mie opere sono spesso rappresentate le splendide montagne che ci circondano con i loro boschi e i loro paesaggi. Quest'opera si intitola Sole sulle cime. Queste sono le tre cime, quelle famose, con la neve e con i maestosi pini, ma soprattutto con il Sole che illumina le cime. Quel Sole che arriva sempre, dopo ogni temporale e dopo ogni avversità così tragica e così violenta. E allora vi aspettiamo numerosi all'astra di beneficenza che si terrà a Villa Pat di Selico. Grazie a tutti.